ben rientrati buon pomeriggio a tutti riprendiamo il nostro luci dal futuro e come avevamo anticipato prima adesso ci trasferiamo in un altro ambito che ha a che fare più con la parte spirituale con lo spirito e con la conoscenza di sé e da questo punto di vista quindi il nostro ospite che adesso introduco ed è giorgio tarditi spagnoli si occuperà di accompagnarci in questo suo intervento vi do qualche informazione intanto su giorgio e poi vi introdurrò un po il suo contributo allora giorgio tarditi spagnoli è un libero ricercatore di scienza dello spirito che l'antroposofia appunto fondata da rudolf steiner è un counselor biografico ed è anche naturopata ha conseguito la laurea in scienze naturali in psicologia e anche il dottorato in scienze della formazione con una tesi in epistemologia applicata alla psicologia archetipica ed evoluzione questa sera giorgio condividerà con noi un argomento molto interessante e che ha questo titolo il lavoro biografico come rivoluzione nell'io l'interiore che modifica l'esteriore rivoluzionare il mondo dice infatti giorgio questo è il proposito che spesso ci si pone quando si inizi il cammino sul sentiero spirituale eppure ben presto il nobile proposito si infrange sulla necessità di prendere contatto con il mondo in modo nuovo ci si accorge che il primo mondo da rivoluzionare è il proprio la vita che prima veniva condotta da fattori esterni e circostanziali ora ha necessità di essere condotta nell'essenza nella piena coscienza dell'io è proprio dalla rivoluzione nell'io che le luci dal futuro giungono infine a rivoluzionare il mondo dopo questa bella introduzione che hai voluto fare giorgio ti lascio la parola e poi come sai alla fine ci sentiremo per le domande e le risposte bene buonasera corrado buonasera elisabetta e grazie per questo invito a lucido al futuro anche quest'anno a questo convegno e sono felice di poter introdurre appunto dato che il tema è rivoluzionare il mondo cosa si può intendere come rivoluzione del mondo dal punto di vista della scienza dello spirito antroposofica e più in particolare di quello che è il lavoro biografico perché in effetti come appunto hai letto questa breve introduzione che ho e descrizione che ho fatto di questa questo intervento in effetti la rivoluzione del mondo è qualche cosa che si sente come necessità si sente come necessità sia individuale che sociale eppure la chiave di questa rivoluzione è difficile da cogliere si sente il bisogno ma si ha difficoltà nel cogliere effettivamente quale sia la chiave per rivoluzionare il mondo questo appunto è il proposito di del lavoro biografico in effetti perché il lavoro biografico se da un lato è una retrospettiva dell'intera biografia Rudolf Steiner dà come uno degli esercizi fondamentali quello di alla sera fare la retrospettiva della propria biografia a ritroso di quella giornata quindi di ciò che sono gli eventi di vita vissuti in quella giornata dal momento in cui si è andata a dormire fino al risveglio ecco il lavoro biografico in un senso più ampio è infatti una retrospettiva di tutta la biografia quindi tutti gli eventi di vita dagli ultimi vissuti quindi nel presente fino a quelli arrivando alla nascita e dal concepimento e questo è l'aspetto retrospettivo della biografia del lavoro biografico ma in questo lavoro retrospettivo quello che accade è che l'io che è appunto il perno sul quale è possibile in effetti rivoluzionare il mondo entra più profondamente compenetra più intensamente gli eventi di vita quindi vedremo adesso un possiamo dire possiamo chiamarlo un diagramma ma in effetti è l'immagine archetipica della biografia e ve lo farò vedere con una lavagna di qualche tempo fa che condivido con voi ecco qui in questa in questo che potete vedere come un diagramma potete immaginarlo leggendolo da in alto a sinistra andando poi verso il basso al centro e poi in alto a destra e poi ancora verso il centro seguendo questa freccia questa u questa spirale che rientra verso l'interno è l'immagine archetipica della biografia questa è come viene portata nel testo il cammino di vita di florin laundes e di george o'neill ma in effetti è basata su indicazioni date da rudolf steiner nell'educazione del bambino e in altre conferenze ogni segmento che vedete sono cicli di sette anni e di quelli di cui parleremo per approfondire cosa significa rivoluzionare il mondo in un senso partendo dalla biografia nel senso dell'io e guardando nell'insieme questa immagine della biografia noi ci accorgiamo che il suo sviluppo archetipico è lo sviluppo di un essere vivente quindi per quanto riguarda questa immagine e soprattutto se ne ha una percezione vivente una volta che si completa almeno una volta quello che è il viaggio del lavoro biografico si può dire che in effetti è più che altro più che un diagramma più che un'immagine statica è l'incontro con l'essere della biografia soprattutto quando chiaramente non si ha un'immagine così generica come la vedete qui quindi vale certo è archetipica vale per tutti ma ognuno poi nel lavoro biografico la deve far propria e quindi già qui possiamo vedere che questo sviluppo del dell'essere della biografia questo che uno sviluppo come quello vegetale ha principalmente tre parti a cui poi se ne aggiunge eventualmente una quarta queste tre parti sono costituite da tre gruppi di settenni quindi sono ogni gruppo sono tre settenni quindi sono tre gruppi di tre settenni che vanno da zero quindi da quando è effettivamente la nascita nel fisico sensibile ad arrivare a quello che sono i 63 anni cosa significa nel lavoro biografico appunto rivoluzionare il mondo nell'io significa che quello che è il mondo interiore che ha vissuto la serie degli eventi di vita in una relativa coscienza di questi eventi soprattutto all'età diciamo che arriva fino ai 35 anni nel momento in cui si arriva dai 35 ai 42 anni quindi il sesto settennio finalmente l'io può possiamo dire entrare e illuminare quello che sono gli eventi di vita dall'interno e quindi illuminando gli eventi di vita dall'interno portando la coscienza dell'io degli eventi di vita è come se a tutto un tratto ci si risvegliassero la biografia e si prendesse coscienza del fatto che innanzitutto per rivoluzionare il mondo è necessario rivoluzionare tutto prima il proprio mondo quindi in questo in questa immagine dell'essere della biografia il settennio fondamentale per comprendere cosa significa rivoluzionare il mondo è il sesto quindi lo vedete da 35 a 42 e ora arriveremo a comprendere il perché che cosa accade perché in sostanza questi tre gruppi di tre settenni sono una vera e propria anatomia dell'essere della biografia sono gli arti costituenti dell'essere della biografia e di conseguenza questi tre gruppi di tre settenni formano una triplicità di un processo di un grande processo che è il processo del ricevere dell'interiorizzare e del donare quindi questi sono i tre principali processi diciamo suddivisione di questo grande sviluppo della biografia quindi i primi tre settenni quindi da 0 a 21 anni sono i settenni possiamo dire della formazione quindi vi è una formazione fisica che è quella del primo settennio in cui il corpo fisico si stabilisce tutto quello che è la forma fisica viene a in un certo senso a consolidarsi anche a cristallizzarsi per certi versi e il quello che è il bambino vive in una continua riflessione del mondo esterno quindi in sostanza si dice anche che il primo settennio è il settennio dell'imitazione cioè tutto l'organismo del bambino che è appena diciamo così fuoriuscito nel mondo nel mondo esterno dal ventre materno è un organo di senso che continuamente riflette quello che è l'ambiente circostante imita tutto ciò che è nella mente circostante questa imitazione in special modo riguarda la madre riguarda il padre riguarda la famiglia i genitori e coloro che stanno intorno quindi anche in un senso più ampio chi dona cure a bambino appena nato fino ai sette anni entro questo settennio quindi si riceve il fondamento a livello imitativo quindi proprio come ripeto come un organo di senso il bambino un organo di senso che continua a riflettere quello che è il mondo che sta l'ambiente che sta al di fuori di lui e l'ambiente del primo settennio la famiglia quindi imita tutto ciò che gli proviene dalla famiglia e questo creerà un possiamo dire un sostrato per tutto ciò che sarà lo sviluppo successivo nei settenni quindi il primo settennio è il settennio fondante dell'esperienza dell'incarnazione dell'esperienza dell'essere nel in un corpo fisico sensibile e quindi nel mondo fisico sensibile e quindi in quel mondo che poi ci si aspetta o diciamo si vorrà rivoluzionare una volta che si prende una certa coscienza di sé quindi innanzitutto nel primo settennio si ricevono tutte le impressioni sensore che vengono restituite continuamente in un riflesso attraverso l'imitazione la famiglia appunto è fondamentale e fonda l'essere secondo i principi morali infatti nel primo settennio Rudolf Steiner come principale indicazione per quello che è il fondamento del primo settennio del corpo fisico del bambino darà proprio quello dei valori morali e religiosi quindi i valori possono essere ovviamente determinati da quello che è la cultura di incarnazione dove ci si va ad incarnare ma in effetti è qualcosa di più non è solo una forma religiosa accettata culturalmente è proprio un fondamento morale che la famiglia nutre di cui la famiglia nutre il bambino attraverso i comportamenti quindi questi comportamenti verranno poi la tendenza sarà quella di imitarli per tutto il resto della vita finché chiaramente poi arriveremo all'io e che cosa significa anche da questo punto di vista accettare in sé l'io nel secondo settennio che è un altro settennio estremamente fondante il cambio tra il settimo e l'ottavo anno è dato da quello che è la dentizione quindi di quello che è la seconda dentizione la dentizione definitiva in sostanza si passa da una da una cerchia che quella familiare ad una cerca più ampia la cerchia delle figure di riferimento che è costituita essenzialmente dalla scuola quindi nella nostra cultura è la scuola quindi la scuola fornisce possiamo dire un'altra famiglia che non è quella di sangue come appunto quella del primo settennio ma è una famiglia idealmente di elezione cioè di valori che possono essere dati attraverso l'educazione i quali risvegliano a loro volta valori che sono già latenti nel bambino quindi in effetti appunto si chiama educazione perché i valori che sono portati dagli insegnanti nell'educazione quindi possiamo dire in generale dalla scuola in effetti vengono risvegliati in quello che è il bambino questo risveglio di valori e di anche di conoscenze in una certa misura anche se sono conoscenze che non dobbiamo immaginare in un senso intellettuale ma devono essere più prese in un senso di ritmo Rudolf Steiner ci dà questa indicazione cioè di forze vitali va a suscitare nel bambino quella che è chiamata l'identificazione cioè rivolgersi a delle figure di riferimento che non sono quelle di sangue non sono quelle della famiglia ma che incarnano un ideale che vive nell'insegnante stesso quindi l'insegnante può diventare una sorta diciamo così di eroe di punto di riferimento che incarna un ideale per il bambino e riesce quindi a risvegliare quello stesso ideale con quei valori che porta nel bambino stesso questo fondamento è un fondamento di armonia del fatto diciamo di quello che è l'equilibrio tra la famiglia di sangue e l'elezione i valori di elezione che il bambino comincia a ritrovare in una prima forma di società che non necessariamente è legata lui dal punto di vista di sangue quindi una seconda famiglia una famiglia che vive sulla base di ideali e di realizzazioni possiamo dire di quello che è la società questo processo continua dai 7 fino ai 14 anni quindi si ha questo questa fase di successivi identificazioni con figure che incarnano degli ideali che incarnano possiamo dire le materie che portano quindi si parla proprio anche di insegnamento fino a raggiungere quella che è la pubertà quindi all'incirca tra i 13 14 e 15 anni quindi affacciandosi nel terzo settegno il corpo comincia a cambiare e manifestare più evidentemente quello che è il dualismo diciamo così quello che è una delle due polarità quella maschile e quella femminile e che da diciamo chiaramente cambia la relazione rispetto a quello che è il mondo esteriore perché si ampia ulteriormente quello che è la percezione della cerchia quindi dalla famiglia la scuola si arriva ad una nuova cerchia che è la cerchia dei pari cioè è la cerchia di coloro che sono nati diciamo così all'incirca nella stessa generazione e che quindi stanno vivendo di fatto la stessa esperienza trasformativa che raggiunge addirittura il livello corporeo diciamo così sono quindi coloro che sono nati più o meno negli stessi anni e che hanno percorso quindi già una certa parte di quello che è il percorso scolastico quindi sono già passati sette anni all'incirca e ne passeranno all'incirca altri sette in questi anni dove dove questa cerchia dalla famiglia di sangue alla scuola si allarga in quella del tempo si ha l'incontro appunto con i valori possiamo dire ma spesso sono più che altro le domande che il tempo il tempo che viviamo e che condividiamo ci pone innanzi quindi sono possiamo chiamarli valore da un certo punto di vista possiamo chiamarle domande possiamo chiamarli dilemmi enigmi del tempo che viviamo e nel terzo settennio ciò che guida tutto lo sviluppo del quindi di questo da 14 a 21 anni quindi del ragazzo a questo punto è quello del sviluppare un proprio giudizio indipendente quindi c'è un'aspirazione all'indipendenza che per la prima volta si manifesta quindi in un certo senso nel secondo settennio c'è una tendenza all'identificazione quindi in effetti alla dipendenza se vogliamo nel terzo settennio invece si ricerca l'indipendenza quindi è un primo distacco da quelli che sono da un lato i valori morali che sono stati dati nel primo settennio della famiglia dall'altro da quelli che sono i valori possiamo dire culturali della scuola nel secondo settennio con finalmente quella che è una percezione della di una propria interiorità quindi nel terzo settennio per la prima volta si ha la percezione della propria interiorità di uno spazio che è privato questo spazio privato è lo spazio dell'anima per la prima volta possiamo dire che l'anima di quello che è il ragazzo si fa si manifesta e diventa un ricettacolo di forze queste forze preparano all'ingresso in quello che sarà il quarto settennio nel terzo settennio che quindi è la pubertà e l'adolescenza e la ricerca dell'indipendenza quello a cui si arriva si vuole arrivare è la verità una verità di corrispondenza tra l'interiorità e l'esteriorità ed è nella ricerca di questa verità che si entrerà nel quarto settennio alla ricerca di questa verità non più tanto nella relazione diciamo così solamente con coloro che fanno parte della propria del proprio tempo che si vive ma in quello che è il mondo quindi la differenza diciamo d'ostacco tra il primo gruppo di tre settenni e il secondo gruppo di tre settenni è che finalmente a 21 anni si viene possiamo dire così partoriti nel mondo con quelle che sono le forze che abbiamo ricevuto nel primo secondo terzo settennio quindi il processo chiave del primo secondo terzo settennio che li accomuna tutti è quello che abbiamo ricevuto dei doni dalla famiglia come valori morali dalla scuola come ideali come insegnamento come incarnazione possiamo dire di quello che ha la cultura e come relazione con le domande del tempo nel terzo settennio quindi sono tre grandi doni la famiglia di sangue la scuola e il tempo che stiamo condividendo questi doni dobbiamo considerare che stanno agendo nell'interiorità del giovane adulto di questo ragazzo che sta diventando un giovane adulto di conseguenza i tre settenni successivi saranno possiamo dire una grande un grande farsi farsi proprio quindi una grande interiorizzazione ed elaborazione individuale di tutto ciò che è stato ricevuto nei primi tre settenni e questa elaborazione individuale comincerà appunto a palesarsi come una necessità di rivoluzionare il mondo perché quindi è all'incirca dei 21 anni che può cominciare diciamo questa immagine perché i primi tre settenni in effetti hanno a che fare con il passato noi abbiamo ricevuto in un certo senso dalla nostra forza di eredità del sangue del primo settennio delle forze che ci derivano dal passato ma anche la scuola perché la scuola così com'è concepita o la cultura se volete di riferimento è fino a quel momento una produzione quello che è un prodotto del passato e così il tempo i dilemmi del tempo sono stati ingenerati da quella che è la storia precedente certo ci sono i prodoni del futuro ma di fatto quello che viene dato è qualcosa che viene ritenuto in un certo senso stabilito e quindi è proprio nel quarto settennio che avviene la prima ricerca dell'infrangere o del mettere alla prova sfidare quello che sono i valori e le domande e diciamo tutte le tutti i doni se volete è uno sfidare anche ciò che c'è stato donato del terzo del secondo del primo settennio quindi a cavallo tra il terzo quarto settennio si sfida si pone possiamo dire in dubbio anche nella propria esperienza del mondo tutto quello che ci si ritrova come tesoro di ciò che c'è stato donato interiormente è necessario è necessario perché altrimenti si rimarrebbe possiamo dire nel come un prodotto di quello che è il passato mentre se il futuro davvero queste luci del futuro nella biografia devono entrare è necessario che ci si stacchi da quello che c'è stato pur appunto con amore donato nei settenni precedenti quindi il quarto settennio è fondamentale perché per la prima volta ci si distacca nell'esperienza del mondo grazie la sperimentazione di cos'è il mondo da tutto ciò che c'è stato donato come prodotto del passato nei primi tre settenni qui si ha appunto la formazione di quella che Rudolf Steiner dà il nome di anima senziente quindi di questa parte dell'anima che entra in una relazione profonda percettiva con il mondo esterno e viene possiamo anche chiamarla così come prima abbiamo detto esistere limitazione nel primo settennio l'identificazione nel secondo e l'indipendenza nel terzo possiamo chiamarla l'età dell'avventura la ricerca di quella che è l'avventura e per avventura si intende una propria esperienza questa esperienza mette alla prova il tempo la scuola e la famiglia ed è qui che possiamo dire che si collocano all'incirca agli anni dell'università ed è qui che appunto è possibile essere condotti nell'universo possiamo dire non solo appunto da quello che ci è derivato dal passato ma veniamo condotti in contatto veniamo portati a contatto con quelle che sono delle forze universali quindi il mondo ci porta incontro la possibilità di da un lato possiamo dire sganciarci da una solamente da un'identificazione col passato e dall'altro cominciare ad accogliere dei semi di quello che è il futuro questo questi semi del futuro vengono possiamo dire attraverso questa esperienza del quarto settennio di scoperta del mondo di sperimentazione esplorazione dei posti nel quello che è il terreno dell'anima quindi tre settenni centrali sono i tre settenni in cui i semi che sono stati posti nell'anima cominciano a germogliare quindi questi semi questi semi possiamo chiamarli semi della libertà del quarto settennio saranno quelli che germineranno da la metà del quinto settennio in poi quindi il quarto settennio da questo punto di vista è fondamentale tanto qua per l'anima tanto quanto lo è stato il primo e il secondo settennio per quello che è il corpo fisico e il corpo vitale quindi possiamo dire per il corpo fisico e la sua fisiologia il suo ritmo il suo modo di vivere quello che caratterizza poi appunto il secondo quindi il quinto il quinto settennio che è il secondo di questa di questo secondo gruppo di tre settenni quello dell'anima razionale è appunto il pensiero come dice l'anima stesso di questa arto animico che ruder steiner descrive quindi l'anima senziente del quarto settennio percepisce il mondo quindi l'esplorazione del mondo l'avventura tra 28 e 29 anni si comincia a interiorizzare il mondo e porlo sotto il vaglio di quello che è il pensiero la ragione la quale arriverà a possiamo dire da un lato a incontrarsi dall'altro a scontrarsi con quello che è il sentimento per questo motivo il quinto settennio il nome di questo arto animico del quinto settennio è doppio e viene chiamata anima razionale affettiva essenziale è la comprensione di ciò che accade tra 28 e 29 anni quindi siamo in questo passaggio perché perché ruder steiner ci dà un'indicazione dice se fino a circa 27 28 anni non sono stati posti nell'anima i semi di spirito quindi quei semi che hanno in sé un'esperienza possiamo dire del trascendente di ciò che trascende il fisico sensibile e possono essere più disparati quindi possono derivare da l'atteggiamento morale della famiglia possono quindi da quello che sono i valori e le forze morali che vivono la famiglia possono derivare dalla religione quindi da alcune immagini della religione possono derivare invece dalla scuola dal modo in cui viene insegnato nel secondo settennio quindi da degli ideali che infondono delle forze nel bambino oppure ancora da nel terzo settennio da quella che è un'attiva ricerca delle domande del tempo quindi un interesse particolare per le domande del tempo insomma se nel quarto settennio fino a 27 anni questi semi che potranno germogliare nel terreno dell'anima nei settenni successivi non vengono posti avviene quella che viene chiamata la morte dei 27 anni che cosa significa questo significa che questo giovane adulto rimarrà legato ai processi dell'anima senziente senza davvero entrare pienamente in quelli che sono i maturi processi dell'anima razionale affettiva e ancor meno di quelli dell'anima cosciente quindi resterà per tutta la vita un eterno giovane adulto che ha una possiamo dire una spinta a esplorare il mondo ma mai a interiorizzare davvero quelle che sono le esperienze del mondo stesso quindi da un lato rimarrà legato a quelli che sono i settenni passati primo secondo il terzo dall'altro avrà una necessità di esplorare il mondo ma continuamente non potrà radicare davvero nessuna di queste nuove esperienze questa morte cosiddetta morte di 27 anni è la principale causa diciamo così di del cessare della volontà di rivoluzionare il mondo possiamo dire della del cessare del ricercare spiritualmente il significato dell'esistenza da dove vengo chi sono e dove vado appunto delle domande che permetteranno di cogliere delle luci che provengono dal futuro quindi come appunto al titolo del convegno quindi questa morte di 27 anni rende possiamo dire così sterile il terreno dell'anima questo questo evento è un evento anche che può manifestarsi anche tragicamente ci sono degli studi di biografia quindi dei lavori biografici condotti su biografie di personaggi famosi che indicano come tra 27 e 33 anni circa se appunto questo questi semi di spirito non riescono davvero a germogliare non hanno le forze non gli viene data anche la fiducia dalle figure che sono che circondano l'individuo a poter germogliare è possibile anche per esempio che si ci si spinga verso processi autodistruttivi fino anche a commettere il suicidio quindi questo è uno dei frangenti diciamo così più delicati per quanto riguarda lo sviluppo animico questo 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 invece se questo processo del ricerca spirituale viene fino viene portato oltre quello che è la metà del quinto settennio questo da un impeto possiamo dire di risalita come vedete siamo stiamo raggiungendo quello che è il punto più basso di questa curva per poi risalire ecco questo impeto per la risalita all'incirca a metà del quinto settennio quindi da 33 anni circa 30 33 anni è dato dal fatto che questi semi di spirito deposti nel terreno dell'anima finalmente germogliano e germogliano perché perché finalmente l'io questo spirito questo sole questa scintilla divina la possiamo chiamare in tanti modi questa percezione di essere individualità è giunta nel punto possiamo dire più basso più a contatto col mondo fisico sensibile nell'organizzazione dell'essere umano quindi quando l'io raggiunge il suo più basso punto di incarnazione lo possiamo dire anche così irradia in quello che è il terreno dell'anima e permette a questi semi di spirito di germogliare se questo non avviene appunto dicevo la morte di 27 anni o si ha appunto processi autodistruttivi nei casi più gravi fino anche al suicidio o altrimenti si vive in un certo senso come se si fosse sempre nel quarto settennio quindi come se si fosse sempre a ricerca di queste esperienze altre cioè fuori di noi quindi per esempio la ricerca della vacanza o la ricerca del viaggio per amore del viaggio senza però in effetti interiorizzare nulla questa grossa differenza crea possiamo dire una separazione una divisione nella qualità della biografia che dalla metà del quinto settennio viene vissuta in poi fino alla fine quindi fino a quello che alla fine della vita e in particolare per l'immagine archetipica della biografia fino ai 63 anni quindi questa divisione questa grande divisione possiamo dire del modo in cui la biografia viene vissuta è tra 30 e 33 anni questo processo che avviene tra 30 e 33 anni è che tutto ciò che era stato messo in discussione possiamo dire nel quarto settennio avviene una separazione tra ciò che può essere tenuto e ciò che invece ha necessità di diventare un concime deve essere scartato andrà a concimare quello che è il terreno dell'anima tutto ciò che può essere tenuto viene interiorizzato diventa una conquista interiore come attraverso una sorta di possiamo dire di dialogo interiore tra il pensiero e il sentimento quindi il pensiero e il sentimento nel quinto settennio cominciano a da un lato incontrarsi dall'altro a scontrarsi il pensiero comincia a rivolgersi all'universale a quello che è appunto ciò che ha a che fare con tutta l'umanità col tempo e con lo spazio che l'umanità vive la storia anche d'altro canto invece il sentimento si occupa di far propria l'esperienza biografica personale quello che si è vissuto come in incarnazione come eventi unici e ripetibili della biografia quindi questo raccordo molto difficile inizialmente tra pensare e il sentire quando è sostenuto da questa luce dell'io che fa germogliare i semi di spirito farà passare alla nascita dell'anima cosciente quindi quando il pensare e il sentire trovano un punto di incontro nell'io in quindi in una sostanzialmente in una trascendenza dei due che allo stesso tempo è anche un'unione un ritorno alla loro origine si può giungere finalmente all'anima cosciente tra 35 e 36 anni comincia la possibilità di afferrare coscientemente il fatto di essere un'individualità un'io appunto un individuo che ha un'esperienza di vita unica e ripetibile che ha un che ha scritto una biografia che è l'io stesso è l'autore della biografia nel sesto settennio possiamo riconoscere finalmente che quello che è avvenuto fino a quel momento è davvero unico e ripetibile e che al contempo ha in sé un elemento universale quindi quello che il pensare e il sentire si era in un certo senso diciamo aveva siano contesi nel quinto settennio nel sesto settennio l'io finalmente può guardare anche dietro di sé dovete immaginare proprio come questa forma a u quindi stiamo cominciando la risalita fino al quinto settennio soprattutto fino alla metà è come se una corrente di vita è una corrente di vita ci ha trasportato come nelle rapide fino a quel punto fino al punto che sta tra i 30 e i 33 anni da quel momento l'impeto che può portare nuovamente verso una risalita che sono settimo l'ottavo nono settennio attraverso sesto è data dal fatto che abbiamo delle forze spirituali che stanno irradiando dall'anima grazie alla luce che hanno ricevuto dall'io quindi questo passaggio fondamentale è una vera e propria possiamo dire risurrezione perché non siamo più siamo morti al passato non siamo più solamente prodotto dalla famiglia neanche dalla scuola neanche del tempo possiamo rivoluzionare il mondo nostro nostro mondo interiore anima sensiente anima razionale affettiva grazie all'io che afferra a se stesso nell'anima cosciente quindi cosa vuol dire anima cosciente significa rendersi coscienti che l'io che siamo io e che l'io opera nella biografia prima operato in una nostra relativa in coscienza soprattutto all'inizio le prime tre settenne e poi progressivamente sempre un po più cosciente e poi si è destato al fatto che egli è l'autore della biografia che gli sta che l'io appunto è l'autore che tiene in mano la penna che ha scritto gli eventi di vita che abbiamo vissuto e di conseguenza per rivoluzionare il mondo deve poter afferrare tutta quella che la biografia fino a quel punto quello che posso dire nell'esperienza anche appunto diciamo della mia pratica col lavoro biografico è che io ho iniziato nel 2015 quindi nel 2015 dopo tutta una serie di formazioni avevo cominciato col lavoro biografico ne avevo un certo numero di diciamo vengono chiamati clienti non è una bella parola mi piace più chiamarli coscienti però diciamo così certo numero di persone che richiedeva il lavoro biografico ora quando siamo arrivati nel 2020 con quello che è stata la dichiarata pandemia di covi 19 e che è un po anche la ragione per la quale luci dal futuro nasce in un certo senso quello che è accaduto è che la necessità di coltivare di portare avanti il lavoro biografico non è duplicata è quadruplicata in quella fase in quella di appunto in quella fase per esempio di quarantene di lockdown chiamiamoli come vogliamo in cui molti hanno sono dovuti stare a casa forzatamente è come se globalmente stiamo parlando poi dell'esperienza che abbiamo vissuto in italia hanno si è dovuti per forza afferrare con la propria coscienza o meglio chi ha voluto rispondere a questa chiamata ha potuto afferrare finalmente la necessità di rivedere retrospettivamente la propria biografia quello che usualmente può accadere come suo principio nel sesto settegno quindi per questo motivo archetipicamente il sesto settegno viene anche chiamato la notte oscura dell'anima quindi è il settegno in cui ci si sente più soli proprio perché è il settegno dove si si afferra quello che è la propria essenza ci si afferra possiamo dire e ci si assume la responsabilità di condurre quello che fino a quel momento si è vissuto coscientemente nel futuro questo io l'ho vissuto veramente dal punto di vista della pratica quindi io lavoravo già col lavoro biografico da diversi anni ma nella vera e propria sete di lavoro biografico che dovendo in un certo senso bisogna immaginare che dovendo stare fermi da un punto di vista dello spazio quindi annullando quella che è la richiesta del quarto settennio l'esplorazione del mondo dovendo immobilizzarsi in un certo senso stare a casa le forze di volontà non si sono rivolte all'esplorazione del mondo esterno ma si sono rivolte all'esplorazione del mondo interno con anche notevoli disagi perché coloro che non avevano fino a quel momento non si erano mai posti queste domande non avevano mai rivolto verso l'interiorità quello che era un processo volitivo quindi voler illuminare la coscienza voler avere un diciamo fare un lavoro introspettivo diciamo così e retrospettivo si sono trovati che venivano spinti a farlo spontaneamente erano le loro stesse forze animiche che si rivolgevano in un certo senso spontaneamente dove loro non avrebbero mai pensato e questo ha dato da un certo punto di vista molti problemi perché chiaramente se non si è pronti a un lavoro introspettivo come è il lavoro biografico può essere davvero complicato può essere doloroso affrontarlo o non volerlo affrontare ancora più doloroso d'altro canto invece chi ha colto questa necessità ha riscontrato in questo evento che possiamo appunto paragonare al sesto settennio nella biografia cioè un parallelismo ha potuto davvero prendere delle decisioni rivoluzionare per la propria biografia io nel sempre nella mia pratica posso dire che negli anni appunto in cui è stata dichiarata la pandemia da covid 19 per via di tutti gli eventi che si sono susseguiti quindi per tutto il contorno diciamo di quello che era stato quel quel periodo che abbiamo vissuto ho visto nel lavoro biografico prendere le decisioni più possiamo dire più rivoluzionarie per usare questo termine più coraggiose rispetto a quando invece non avevo condotto lavoro biografico prima o invece dopo questo periodo quindi nel 2020 21 22 quindi 2020 21 con una coda nel 22 è stato il periodo in cui nel lavoro biografico per esperienza personale ho visto prendere delle decisioni in modo risoluto che hanno poi avuto anche una conseguenza fondata che è rimasta nel tempo e cresciuta da parte appunto di di coloro che conducevano al lavoro biografico quindi anche questo è stato veramente da punto di vista di chi porta avanti il lavoro biografico come counseling diciamo estremamente interessante e anche incoraggiante perché è possibile farlo è possibile davvero rivoluzionare il mondo ma bisogna partire innanzitutto da una presa di coscienza e responsabilità che il solo l'io può dare attraverso una illuminazione una compenetrazione delle forze dell'io di tutta la biografia precedente fino a quel momento quindi questo periodo dell'anima cosciente è anche il periodo del settembre dell'anima cosciente anche il momento in cui io posso davvero assumermi una responsabilità e voler agire nel mondo e quindi con questa scorta di questo sesto settennio io entro nei nell'ultimo gruppo di tre settenni dal punto di vista archetipico poi sappiamo che ve ne sono degli altri ma per comprendere i tre ho detto ci sono tre processi ricezione e ricevere un dono primi tre settenni individuo quello dell'individualizzazione di questi doni quindi una esperienza individuale dei doni con questa cernita di ciò che si può tenere e ciò che invece da usare come concime e gli ultimi tre settenni è donare ciò che si è interiorizzato nei tre settenni dell'anima al mondo quindi il settimo l'ottavo nono settennio sono la restituzione possiamo dire in un superamento dell'egoismo quindi o se volete in un egoismo che si amplia a tal punto che si risvolta su se stesso e diventa altruismo in cui quello che abbiamo ricevuto nei primi tre settenni e che abbiamo elaborato individualmente preso coscienza afferrato la responsabilità nei tre settenni centrali dell'anima può essere donato al mondo quindi qua la rivoluzione tra sesto e settimo settennio la rivoluzione del mondo interiore diventa comincia a diventare la rivoluzione del mondo fuori di noi è il dono è il donarsi è il donare ciò che si è interiorizzato si è fatto proprio nell'anima questi semi di spirito che germogliano che possono essere donati i frutti dello spirito nei tre settenni settimo ottavo e nono questo dono è triarticolato appunto ai tre settenni sette otto e nove nel settennio del nel settimo settennio dobbiamo immaginare che il dono può abbracciare quello che è la comunità umana nella maggioranza dei casi questo dono siamo tra 42 e 43 anni questo dono può abbracciare la sfera di chi ci circonda quindi per esempio la famiglia di elezione se nel frattempo appunto abbiamo costruito quello che abbiamo formato una famiglia di elezione che non è più la famiglia di sangue ma appunto delle forme di elezione di scelta in secondo come una seconda cerchia che si ampia è il lavoro quindi nel settimo settennio quella che è la professione il lavoro può essere intesa non più solamente come un qualche cosa che io devo fare per vivere nel mondo cioè la necessità di trasformare quelle che sono le pietre impane ma finalmente io posso concepire il lavoro come formatore di comunità quindi nel settimo settennio il dono che si restituisce è il fatto che ciò che si è interiorizzato del proprio lavoro che è anche una collocazione nel mondo e avere una forma di vita nel mondo può essere restituita sotto forma di immaginazione e l'immaginazione intesse forma la comunità quindi il settimo settennio è il settennio in cui il lavoro forma la comunità attraverso l'immaginazione tutto quello che è stato sperimentato prima la biografia nel settimo settennio soprattutto attraverso il sesto che fa appunto da impeto per il dono degli ultimi tre settenni archetipici è sono immagini che provengono dal futuro che sono state colte appunto come luci dal futuro e che vengono restituite alla comunità umana attraverso il lavoro quindi bisogna immaginare che tutto quello che siamo riusciti a elaborare del passato abbiamo fatto questa cernita tra ciò che potevamo tenere ciò che invece dovevamo scartare ha creato uno spazio questo spazio interiore riceve impulsi dal futuro questi impulsi dal futuro inizialmente si presentano sotto forma di immagini cosa vuol dire possiamo chiamarle anche in un altro modo di progetti di immagini di come il futuro può diventare di immagini di realizzazione di progetti nel futuro possiamo anche metterle insieme queste parole è in altre in altri aspetti diciamo il primo settennio realmente sociale cioè l'essere umano cessa di essere un essere centrato in se stesso prima era centrato se stesso egoisticamente ricevendo doni dalla famiglia dalla scuola dal tempo poi era centrato nell'io nei tre settenni dell'anima quindi doveva trovare se stesso afferrare alla propria responsabilità individuale qui finalmente può in un certo senso liberarsi come prima cerchia e entrare nella comunità umana come se stesso come io incarnato scintilla divina incarnata ma che riconosce negli altri altre tante scintille divine incarnate quindi l'essenziale il sesso settennio perché è essenziale perché se io non riconosco me stesso come una scintilla divina incarnata come un mio che può rivoluzionare il mondo se io non ricevo queste immagini io il mondo non lo rivoluziono io se non mi assumo la responsabilità non posso fare nulla che sia veramente fondato nel mondo e quindi non potrò entrare in contatto con la comunità umana questo processo di dono si amplia ancora di più nell'ottavo settennio dobbiamo immaginare che da quelle che sono delle forze che hanno a che fare con la comunità umana del settimo settennio che steiner chiama il se spirituale quindi se spirituale significa formare comunità la comunità umana lavorare per quello che è la formazione di comunità io posso ampliare ulteriormente la mia immagine della comunità questa ulteriore ampliamento dell'immagine della comunità non comprende solo gli esseri umani perché nell'ottavo settennio si ha una percezione di quella che oggi chiamiamo diciamo nella quello che è la scienza naturale da diciamo dalla fine dell'ottocento in poi che si chiama ecologia nell'ottavo settennio noi abbiamo una percezione possiamo dire della comunità ecologica cioè cosa significa non solo della comunità umana della società umana e dei problemi che gli esseri umani hanno e si pongono ma del fatto che questi problemi domande della società umana della comunità umana sono in relazione a domande ancora più grandi che comprendono quelli che sono i fratelli cugini degli animali dei vegetali dei minerali dell'ambiente che abitiamo quindi un'altra domanda che infatti vi ricorderete con tutte ovviamente il distinguo del caso ma che è sorta profondamente in quello che è che è stata la dichiarata pandemia covid 19 è stata la domanda ecologica cioè qual è la relazione dell'essere umano con la natura che era qualche cosa che nelle scienze naturali ci si era già posti da tempo da diversi diciamo da diverse decine d'anni ma che diventa una domanda che arriva alla coscienza degli individui possiamo dire a quella che è la cosiddetta opinione pubblica solamente nel momento in cui ci si è soffermati su la necessità di rivedere tutto quello che era successo precedentemente a partire dagli individui la propria biografia a considerare le biografie condivise perché ogni biografia chiaramente condivisa e intrecciata quella degli altri della comunità umana la comunità umana in relazione a la terra in relazione alla natura nell'ottavo settennio e quindi va dai 49 a quelli che sono i 56 anni si possono formare delle domande che pongono l'uomo in relazione al mondo della natura all'ecologia questo che steiner chiama spirito vitale dal sé spirituale lo spirito vitale è appunto una un ampliamento della sfera di coscienza perché le domande non hanno più a che fare col mio gruppo di lavoro per lo meno non solo possono ampliarsi non solo col mio gruppo della famiglia di elezione non solo col gruppo di lavoro ma anche con la nazione in sé e le nazioni tra loro rispetto al loro ruolo sulla terra a quello che compiono sulla terra quando si arrivano l'ottavo settennio io posso avere una percezione di quello che sono i processi vitali a livello possiamo dire di della terra di quello che è l'organismo terrestre questo aspetto che è qualcosa che noi oggi vediamo appena annunciarsi sono luci diciamo che vengono da un futuro che è molto prossimo ma in realtà le loro reali applicazioni non saranno così prossime avranno diciamo uno sviluppo nel futuro un po più lontano è qualche cosa che nasce è una domanda della domanda ecologica che nasce perché si è rivista la biografia individuale in relazione ad altre biografie individuali che formano biografie di comunità formano biografie dei gruppi l'ultimo passaggio che vediamo che è quello tra 56 ad andare verso i 63 anni quello del nono settennio è un ampliamento ulteriore di quello che è la comunità e quindi la possibilità di donare nel settimo settennio dono alla comunità umana nell'ottavo settennio io posso donare una comunità che è talmente ampia che il rapporto tra l'uomo e la natura nel nono settennio il dono raggiunge un rapporto nuovo perché è un rapporto spirituale è un rapporto con il significato il senso stesso dell'esistere dell'uomo della natura quindi della terra nel suo insieme rispetto al cosmo quindi di fatto si ritorna a quello che è la morale del primo settennio io nel nono settennio riacquisisco una morale che ha una dimensione cosmica questa morale di dimensione cosmica è in effetti la destinazione finale dei miei doni che ho donato nel settimo nell'ottavo e poi donerò nel nono settennio quindi nel nono settennio io ritorno a una possiamo dire a dei valori morali e religiosi che vengono donati al cosmo è il mio rapporto tra l'uomo la terra e il cosmo da un punto di vista spirituale nell'ottavo settennio è in effetti possiamo dire la scuola della terra così come nel secondo settennio io ho vissuto ho ricevuto i doni dalla scuola io nell'ottavo settennio dono a quello che è possiamo dire la scuola della natura il rapporto tra l'uomo e la natura l'equilibrio l'armonia che può esistere tra l'uomo e la natura nei ritmi vitali anche la percezione del fatto che esistono delle stagioni che noi magari vivendo se viviamo in città magari dimentichiamo quindi il fatto che esistono dei ritmi della natura e nel settimo settennio chiaramente avendo donato a quella che è la cerchia del lavoro possiamo dire e della comunità umana io ho risposto alle domande del tempo che mi che invece mi erano state poste che avevo ricevuto come enigma nel terzo settennio quindi i tre doni settimo ottavo nono settennio sono la restituzione interiorizzata individualizzata e spiritualizzata dei tre doni della famiglia della scuola e del tempo che abbiamo vissuto nel primo secondo terzo settennio questa rivoluzione appunto per concludere la rivoluzione del mondo interiore del sesto settennio in particolare diventerà la potenziale rivoluzione del mondo al di fuori del settimo ottavo e nono settennio e con questo vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente se ci sono delle domande molto volentieri eccoci grazie Giorgio per questa tua presentazione che aiutata anche da questa immagine è stata veramente molto molto chiara e che ci ha fatto apprezzare qual è il disegno sottostante predisposto per l'essere umano che lo vuole disegnare perché evidentemente le leggi che sottostanno a quello che tu ci hai presentato sono uguali per tutti poi nella nostra libertà assolutamente individuale noi siamo liberi di percorrerlo o non percorrerlo e scegliere come percorrerlo ci sono delle domande quindi adesso noi piano piano teleponiamo e sentiamo un po' Elisabetta arrivo subito grazie c'è Silvia che chiede sembra che nei tempi attuali questi tempi che tu hai come dire schematizzato in questo in questo diagramma si siano accorciati e certe tappe anticipate vissute con tempi più brevi Silvia chiede questa velocizzazione può comportare dei danni allora grazie Silvia per questa domanda perché è molto interessante e Steiner ne parla in realtà di questo allora bisogna dividere due aspetti distingere due aspetti uno è il fatto che man mano che noi viviamo un'epoca che diciamo dal punto di vista della scienza dello spirito viene chiamata epoca dell'anima cosciente appunto come vi dicevo equivale al sesto settennio man mano che l'io lavora sempre più intensamente in quella che è la costituzione umana quindi di fisico eterico e l'astrale e poi le anime quindi gli arti animici i tempi s'accelerano quindi di fatto l'io accelera i tempi man mano che l'io arriverà a lavorare sempre più intensamente nell'interiorità umana accelererà i cambiamenti questo è il primo aspetto quindi l'io è dovete immaginare come un fuoco che più arde più brucia ciò che gli sta intorno e lo trasforma quindi lo spiritualizza quindi accelera i tempi questo è il primo aspetto poi c'è un altro tipo di accelerazione l'altro tipo di accelerazione è quello dato dal fatto che proprio perché l'io accelera i tempi e li accelera in un senso epocale quindi dell'epoca che tutti noi stiamo vivendo se noi come accennava Corrado non cogliamo con le forze volitive individuali questa accelerazione questa azione dell'io dall'interiorità umana noi come se continuamente diciamo così venissimo trasportati in questa corrente di accelerazione senza esserne coscienti quindi senza afferrarci come io nell'anima cosciente che è la missione della nostra epoca oltre che eventualmente della del settennio biografico questo fa sì che vi sia un disaccoppiamento tra le esperienze di vita che appunto possiamo avere in un'incarnazione nella nostra cultura occidentale e la dimensione archetipica della biografia come l'abbiamo vista quindi l'essenziale che vi sia una possiamo dire una concatenazione per cui la famiglia coglie questa trasformazione primo settennio la scuola coglie questa trasformazione secondo settennio tra i pari ci si relazioni con domande che hanno a che fare con questa trasformazione con questa accelerazione se allora la famiglia la scuola e diciamo tutto ciò che sta intorno e che crea quelle che sono le domande del nostro tempo anche le istituzioni possiamo dire si accorge del fatto che l'io lavora sempre più intensamente nell'interità dell'uomo e accelera i tempi allora è possibile far corrispondere possiamo dire un tempo esteriore un tempo interiore se così non è come si immagina chiaramente le anticipazioni possono essere dannose c'è da dire che l'io compie miracoli quindi può anche compiere il miracolo di recuperare o rimettere in ordine ciò che è stato scombinato nel corso diciamo dell'esperienza di vita sia a livello individuale che a livello collettivo quindi questo non lo dobbiamo mai dimenticare l'io può davvero compiere questo miracolo l'io rivoluziona al mondo interiore dell'esteriore quindi nonostante il fatto le accelerazioni le anticipazioni possano effettivamente interferire col processo di sviluppo biografico se l'io si desta se ci si afferra come io principalmente nel sesto settembre è possibile andare a recupero quindi addirittura parte del lavoro biografico è per esempio dare una volta individuati quali sono state da un lato le accelerazioni o dall'altro i rallentamenti perché ci possono essere anche questi andare a compiere degli atti consigliare diciamo o cercare di capire quali possono essere degli degli atti o degli eventi a cui andare incontro che possano andare a compensare ciò che è stato troppo accelerato o ciò che invece è stato invece ritardato bene infatti ha già anticipato una domanda che ci chiedeva cristina in che modo si può recuperare nel caso non si siano rispettate le tappe come descritte ma immagino che ogni tappa abbia un suo processo di recupero specifico insomma e chiaramente non solo sì ogni tappa è specifica ma anche poi ogni biografia per esempio faccio un esempio dei più tipici mi è capitato di fare lavori biografici con coloro che avevano interrotto l'università e quindi nel lavoro biografico sembra magari qualcosa che per alcuni è qualcosa che non ha anzi trovano un senso nel non aver completato l'università ma altri invece invece l'hanno interrotta per motivi che non dipendevano dalla loro volontà e quindi come decisione una delle decisioni coraggiose che ho visto è stato quello di riscriversi all'università per poter andare a recuperare o vivere in modo diverso quell'esperienza che all'esperienza che all'epoca non avevano potuto vivere e questo crea un ordine un riordinamento e quindi un riallineamento di quei tempi e un recupero della qualità possiamo dire della vita di quell'epoca che allora non avevano potuto vivere per un motivo per l'altro per la famiglia Allora le domande che sono abbastanza allora Silvana ci fa due domande intanto chiede se si possono spiegare i simboli del diagramma perché li abbiamo visti però in effetti non ne abbiamo parlato e poi chiede cosa comporta nella vita di un adulto non essersi identificato con i valori della scuola società nel secondo settegno ma essersi sentiti bambini esclusi diversi e ti fa molti complimenti ovviamente Grazie Cerchiamo allora prima i simboli che è l'aspetto più diciamo immediato Allora non ne ho parlato in questo senso perché questo era un seminario sul lavoro biografico che entrava appunto soprattutto nella dimensione archetipica però era per non farvi un come dire un intervento appeso Ecco questa immagine ci ha permesso di mettere dei punti di riferimento e un'immagine visuale visiva di quello che è effettivamente l'essere della biografia Quindi i settenni che vedete che sono le divisioni di questa freccia che va su se stessa va in una spirale sono collegati alle forze archetipiche delle sfere planetarie partendo da quella più vicino alla terra Quindi la luna andando verso quella più lontana cioè Saturno ed eventualmente Urano, Nettuno e Plutone quindi andando ancora più in là oltre i 63 anni Quindi i settenni possono essere anche caratterizzati dal punto di vista possiamo dire così delle forze della divinità che si manifestano nei singoli settenni Questo era il modo con cui per esempio nelle scuole dei misteri degli antichi misteri per esempio greci si insegnava il mistero della biografia Questo essere della biografia che si sviluppa quindi primo settennio il corpo fisico è diciamo è l'immagine la manifestazione delle forze della sfera della luna Il secondo di mercurio il terzo di venere quelli dell'anima i settenni dell'anima che sono centrati sull'io è il sole il sole in tre aspetti Un aspetto vitale, un aspetto animico e un aspetto spirituale che sono anima senziente, razionale, affettiva e cosciente Poi si lascia la sfera del sole e si va nei pianeti soprasolari, nelle sfere soprasolari Marte, settimo settennio, Giove, ottavo e Saturno, il nono Poi gli successivi sono le sfere transpersonali cioè che vanno oltre la persona singola Quindi chiamate anche generazionali che sono appunto Urano, Nettuno e Plutone quindi decimo, undicesimo, dodicesimo settennio Queste forze sono anche quelle che all'inizio della biografia sostengono il processo di manifestazione del fisico sensibile Quindi da zero diciamo a circa 30 anni, 30-33 anni E invece sono quelle forze che vanno a essere spiritualizzate e quindi trasformate in dono Da quello che sono i 30-33 anni fino ai 63 Quindi potete anche immaginare la divisa in due come i due lati diciamo di questa coppa, di questa U La prima parte è il farsi nel fisico sensibile, il manifestarsi nel fisico sensibile E la seconda parte invece è la spiritualizzazione di ciò che si è fatto nella prima metà La seconda domanda, se me la puoi ripetere così rispondiamo subito alla seconda parte diciamo di questa domanda Sì, allora Silvana chiede Cosa comporta nella vita di un adulto non essersi identificato con i valori della scuola società nel secondo settennio Ma essersi sentiti bambini esclusi e diversi E qui mi collego Giorgio, visto che ci siamo a un'altra domanda di Edi Che è molto simile, dice In un periodo in cui la famiglia e la scuola sono messe sotto discussione Che danni può provocare questo fenomeno nella coltivazione dell'anima Quindi da un lato la famiglia e la scuola messe in crisi Dall'altro invece un bambino che nel secondo settennio non si vede riconosciuto Non si trova riconosciuto in un entourage valido e nutriente Grazie Allora, innanzitutto dobbiamo considerare che nell'ambito delle biografie Tutto ciò che può accadere accade Cioè nel senso che ognuno vive un'esperienza talmente unica Ma che al contempo è una dimensione universale Che tutti gli eventi che potete immaginare accadono Questo è il punto di partenza E nel lavoro biografico è necessario sospendere in modo assoluto il giudizio Questa è la prima regola, diciamo Che vale anche per il counseling poi E anche per tutti i lavori introspettivi Quindi se non abbiamo risposto, possiamo dire Se non abbiamo potuto andare in risonanza con le forze archetipiche di un settennio È necessario, andando a fare il lavoro biografico Con altissima, diciamo, probabilità Andare a dover recuperare quello che sono i processi di quel settennio Quindi andare a lavorare su ciò che non abbiamo colto di quel settennio Per esempio se ci siamo sentiti esclusi dalla scuola Trovare un nuovo rapporto con quello che è la scuola in qualche modo E quindi per esempio c'è chi magari Questo è capitato nel lavoro biografico Non aveva completato non l'università Ma magari gli studi del liceo E quindi si è iscritto alle scuole serali Per recuperare quella dimensione Ma stavolta volendolo con le forze dell'io Quindi vivendolo in modo totalmente diverso E addirittura vivendolo sentendosi coinvolto in processi Che all'epoca, quando archetipicamente lo avrebbe potuto vivere Era stato completamente escluso Quindi bisogna prendere il coraggio Diciamo afferrare con coraggio la responsabilità Di andare a compensazione di ciò che non abbiamo vissuto Per quanto riguarda la seconda domanda Appunto quella della famiglia e la scuola Che sono messe sotto discussione Ci sono tanti aspetti Quindi qua è difficile diciamo Cogliere solamente diciamo uno o pochi aspetti Il fatto è che veramente si sta evolvendo Tutto molto velocemente Quindi la difficoltà è stare al passo con le forze Che l'io riversa che noi lo vogliamo o non lo vogliamo Sia nella nostra interiorità che nel tempo in cui viviamo Questo è il dato fondamentale Di conseguenza noi da un lato dobbiamo considerare Che il passato ci fornisce un sostegno Fino a dove può arrivare Ma non oltre Tutte le forze del passato sono adatte a sostenerci Fintanto che l'io non lavora nella piena coscienza Quindi quando andiamo a vedere come sono oggi La famiglia e la scuola Dobbiamo sempre tenere in considerazione Che non possiamo avere un'immagine statica Della famiglia e della scuola Noi dobbiamo cercare di comprendere Quali sono i reali Le biografie reali Che si esprimono nella famiglia e nella scuola Quindi dobbiamo assolutamente cercare di capire Qual è effettivamente il fenomeno Che ci si presenta davanti E eventualmente caso per caso Andare a comprendere quali sono le azioni da poter portare L'ideale diciamo della Chiaramente la scuola Waldorf si pone in un senso che Con il suo metodo di insegnamento Metodo educativo e metodo esperienziale Si pone in un modo tale che L'educazione viene tratta appunto Dalle forze stesse che vivono intorno al bambino E nel bambino stesso Di cui quello che è l'insegnante Diventa un mediatore di queste forze Allora quando noi non ci appoggiamo Troppo a degli schemi preconfezionati Quindi a quella che è il modello di istruzione Allora noi man mano riusciamo ad adattarci ai cambiamenti E ai casi particolari Che sono tutti casi particolari Che ci vengono incontro Questo vale sia per la famiglia Che per la scuola Quindi dobbiamo evitare di avere la tentazione Di cristallizzare la nostra immagine Sia della scuola che della famiglia In quanto ogni biografia Ed ogni condizione Diciamo intreccio di biografie È assolutamente individuale E in questo noi abbiamo necessità Di comprenderlo in questo senso Ripeto sospendendo il giudizio Certamente gli attacchi Diciamo deliberati e diretti A un'immagine piuttosto che un'altra E chiaramente sono sempre attacchi Quindi noi dobbiamo partire sempre E quindi non sono costruttivi Sono distruttivi Noi dobbiamo sempre partire Però dal dato fondamentale Che è la biografia Che è un mistero Ed è un sacro mistero Questo è quello da cui dobbiamo partire Questa assenza di giudizio Giorgio è decisamente consolante È molto amorevole È molto accogliente Ora noi abbiamo altre diverse domande Ma ahimè il tempo è finito Quindi dobbiamo Ci dispiace perché è veramente Ha scatenato Nella chat un sacco di domande Di riflessioni Una sola cosa Ti chiedo se magari Quando abbiamo terminato Il nostro intervento Puoi scrivere qualche titolo A dare ai nostri Alle persone che ci sono Volentieri Per magari studiare Iniziare la prossima Nella chat Esatto Nella chat Nella biografia Così perché insomma Vediamo che ha smosso Diverse reazioni Giorgio Grazie 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 a questo tuo intervento Del fatto che tu porti Queste Anche tu queste luci Che provengono Da una ricerca La ricerca è davvero importante Ma deve essere figlia Dell'esperienza E quindi Questi contributi Sono preziosi Ti ringraziamo ancora una volta Adesso ci prendiamo Una pausa Di mezz'oretta Ancora E concluderemo In grande bellezza Questa prima giornata Di oggi Con l'intervento Di narrazione teatrale Di Claudio Tomaello Che comincerà Puntualissimo Alle ore 18 e 30 Quindi ci rivediamo Su questi schermi Tra mezz'ora A più tardi A più tardi Grazie a tutti Grazie Ciao Giorgio Ciao